Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. E' questa l'ipotesi di reato, a momento apparentemente senza indagati, che ha indotto il procuratore aggiunto di Trani, Francesco Giannella, a disporre il sequestro urgente di parte di Palazzo Gadalleta, in Piazza Trieste. La polizia locale ha così eseguito il sequestro giudiziario probatorio di tre locali a piano inferiore dell'immobile, nei pressi di Piazza Sacra e Giudienza, e in corrispondenza di quelli al piano superiore, altri tre locali sede della Cancelleria delle Espropriazioni Immobiliari. L'edificio, già delle suore angeliche e successivamente sede dell'apertura circondariale, e che oggi ospita il Tribunale Fallimentare e la già citata Cancelleria delle Espropriazioni Immobiliari, era già da tempo oggetto di costante monitoraggio a parte del Tribunale stesso e dell'ufficio tecnico, già che l'immobile è di proprietà comunale. Il sequestro dipende da problemi di carattere strutturale e statico, accertati da una serie di sopralluoghi e perizie svolte da consulenti sia del Tribunale, sia della Procura, sia dell'ufficio tecnico. Tanto è vero che il decreto di sequestro fa riferimento ad un fascicolo già aperto allo scorso anno, con una serie di ipotesi culminate con un sopralluogo compiuto lo scorso 4 gennaio dal consulente della Procura, il professore ingegner Salvatore Marzano, che ha indotto l'aggiunto Giannella a non indugiare oltre nel disporre l'inibizione totale dei locali, che presentano condizioni tali da richiedere interventi urgenti di risanamento strutturale e consolidamento. Tutto da chiarire adesso il modo in cui, da lunedì prossimo, riprenderà la attività giudiziaria e il lavoro di chi abitualmente opera in quei locali. Quelli sequestrati a piano superiore, infatti, sono uffici perfettamente attivi e nelle stanze ora inibite vi sono postazioni telematiche e centinaia di fascicoli cui adesso sarà impossibile accedere. Si rischia una semiparalisi della attività giudiziaria.